Buon pomeriggio dallo stadio Soverchia di San Severino Marche, decima giornata del Girone F, campionato di seconda categoria. La sfida è tra il Serralta e la Folgore Castel Raimondo, squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo ai ordini del signor Angelini Riccardo della sezione di Macerata. Partita molto attesa, una sorta di derby vista la vicinanza chilometrica tra i due paesi, quindi una sfida interessante anche per quanto concerne la situazione in classifica attuale delle due formazioni. Partita con vista decisamente play-off perché il Serralta è nel gruppone delle seconde in classifica, quota 16 punti, subito sotto, distante di una sola lunghezza, la Folgore Castel Raimondo che da neopromosta sta davvero comportandosi nel miglior modo possibile. Quindi molta attesa per questa partita che si preannuncia equilibrata, speriamo anche divertente, ma vedremo nel corso di questa telecrona come si svolgerà l'incontro. Le squadre pronte per dare il via al match, alla destra dei teleschermi la Folgore Castel Raimondo nella tradizionale casacca con colori bianco-azzurri con prevalenza del blu. Dal sinistra dei vostri teleschermi ovviamente il Serralta con la maglia gialla, pantaloncini blu scuro. Pallone lungo a cercare un proprio compagno che cerca un inserimento centrale, il tiro dal limite di sinistro, molto bene indirizzato da parte di Salvatori. Siamo precisamente al minuto 28 quando Sparvoli va direttamente in porta e trova una grandissima parabola con il sinistro che si infila sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Serrani e la Folgore Castel Raimondo è in vantaggio quando siamo esattamente al 29esimo minuto del primo tempo. C'è Capitano Sparvoli che allontana il volo con il sinistro nella zona di Rocci, il tocco pericolosissimo all'indietro, favorisce Salvatori che entra in area, il tiro di Salvatori, il doppio tentativo poi il clamoroso palo colpito da Salvatori, occasionissima per la Folgore. Ancora Natali con il pallone tra i piedi per imbastire questa ennesima azione del Serralta. Broia va giù, l'arbitro non fischia, parte Macovei che entra in area, Macovei il tiro raso terra, Serrani ribatte, arriva poi Nebel che deve saltare Natali per l'intervento iscivolata. Nello stesso momento arriva il fischio del signor Angelini di Macerata che decreta la fine di questo primo tempo. Squadre che si dirigono negli spogliatoi con la Folgore, Castello e Raimondo in vantaggio per una rete a zero sul Serralta. Il gol che sta decedendo il match di Capitano Sparvoli al ventinovesimo minuto su punizione. A risentirci per il secondo tempo. Da qualche secondo è iniziato il secondo tempo di Serralta, Folgore e Castello e Raimondo. Decimo turno del campionato di seconda categoria Girone F. Ricordo il risultato con cui le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Folgore in vantaggio 1-0 grazie al gol al ventinovesimo minuto su calcio di punizione del proprio Capitano Sparvoli. Non ci sono state sostituzioni al rientro dagli spogliatoi da parte dei due tecnici. Quindi giocano i ventidue che abbiamo visto nel primo tempo a parte Roccheggiani che è entrato in campo al ventesimo minuto al posto dell'infortunato Torre. Va in avanti Tiranti in aria sul passaggio di Giorgi. L'uscita sprombattuto di Pelagagge a salvare tutto. Al dodicesimo minuto il portiere ospite pronto al rinvio lungo. A cercare ancora Macovei che salta bene di testa per lo scatto di Cagnucci che sorprende un attimo. La Torre Cagnucci è entrato in aria, cerca di conveggere. Piazza Cagnucci il destro. Ottimo la risposta di Serrani. La punizione di Rossi in aria a cercare un compagno. Batti e ribatti poi il tiro di Natali sul rinvio corto di un difensore della Folgore. La botta al volo con il destro del Capitano del Serralta. La palla però alta sopra la traversa. Arriva il tripice fischio finale del arbitro Angelini di Macerata che sancisce il successo. meritato della Folgore Castelra e Mondo sul campo del Serralta. 1-0 al ventinovesimo del primo tempo su punizione Sparvoli.